il campanile della basilica di san paterniano il santo patrono della città da oggi a tre nuove campane in lega di bronzo pesano rispettivamente 450 220 e 115 chili si vanno ad aggiungere alle cinque già presenti nel campanile fedelmente ricostruito dopo che i tedeschi lo fecero saltare in modo da comporre tutta la scala armonica delle sette note più un do che si ripete questo permetterà di poter eseguire tutte le composizioni liturgiche cosa rara nel nostro territorio infatti per trovare un'altra scala completa bisogna arrivare fino a loreto le tre campane hanno ognuna un nome fede speranza e carità come ci ha spiegato il padre guardiano la fede che ci fa credere la speranza che ci fa sperare in una realtà eterna e la carità il grande precetto dell'amore tra dio e gli uomini e tra di noi ecco nelle campane sono incise delle frasi in latino la traduzione è questa fede la fede è confidare in dio e nelle cose da lui rivelate speranza la speranza e desiderio di felicità eterna che confida nelle promesse di cristo poi la terza campana la carità e il comandamento nuovo l'amore di dio e l'amore del prossimo per la città di fano e la basilica è un evento di straordinaria importanza che darà grande lustro sia la basilica che alla città il santo è venerato in oltre 23 città in tutta italia e patrono oltre che di fano anche di grotta mare e cervia dove il 13 novembre si tiene una grande festa grazie al contributo di un benefattore cittadino che vuole rimanere anonimo alle 9.30 di questa mattina sono arrivate sul sagrato della chiesa direttamente dall'antica fonderia de poli in provincia di treviso fondata nel 1453 e che realizzò anche le altre campane della basilica domani ci sarà una celebrazione anche solenne per suggellare questo momento sarà con noi il nostro vescovo armando trasarti che celebrerà insieme a noi una solenne celebrazione eucaristica e al termine di questa celebrazione ecco benedirà le nuove campane e sarà presente con noi anche il nostro sindaco per sentirle risuonare assieme alle altre però dovremo aspettare il 10 luglio in occasione della ricorrenza del santo patrono per il momento restano all'interno della chiesa per essere ammirate dai fedeli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti